Sì, dimagrita un pochino? Troppo un pochino, ho fatto un piano e roba la cosa che mi è successo Troppo amore, mi confio amore, bevo un po' meno Domani si parte Ignazio Moser, questa mattina, ha entusiasmato i suoi fan con un video speciale Domani partirà per le vacanze insieme alla sua amata fidanzata Cecilia Dopo giorni di noia trascorsi a casa da solo, è finalmente giunto il momento di staccare la spina e godersi un meritato riposo I suoi follower sono in trepidante attesa per scoprire la meta di questa romantica avventura Ignazio, con il suo sorriso contagioso, ha dimostrato ancora una volta di essere una fonte di gioia per tutti i suoi fan E di condividere la sua felicità con loro